Il libro L'Obiettivo mi ha confermato come teorie concettualmente semplici possono portare a grandi risultati. L'Obiettivo è un bellissimo libro scritto in forma di romanzo che fondamentalmente porta a due concetti. Il primo è che ogni sistema ha un vincolo che determina e detta il passo del sistema, la sua interezza. Il secondo è che governando questo vincolo si può governare tutto il sistema. L'insegnamento che mi ha lasciato il libro L'Obiettivo è che bisogna riuscire a conoscere qual è il vincolo del sistema e capire il ritmo al quale si muove in modo da adeguare tutto il sistema a questo andamento. De Gaulle per me sono tre domande. Cosa cambiare, in cosa cambiare e come causare il cambiamento. Se l'obiettivo di un'azienda è fare soldi abbiamo bisogno di alcuni indicatori che ci permettono di capire se stiamo raggiungendo questo obiettivo. Il libro The Gaulle ce ne suggerisce tre il throughput, le scorte e le spese operative.